Una storia quasi soltanto mia. Entriamo in questo racconto attraverso gli occhi e lo sguardo di Piero Scaramucci, che l'ha raccolto da Licia Rognini Pinelli. Licia è seduta sulla poltrona, proprio nell'angolo del salotto, un po' impettita. Non guarda né me né il registratore. «Perché vuoi fare questo racconto?» le chiedo. «Per anni hai evitato le interviste. Hai difeso con gelosia le tue idee, la tua storia con Pino, le bambine, tutta la tua vita privata. E ora improvvisamente sei tu che vuoi parlare. Che cosa è cambiato?» «Non mi è molto chiaro», risponde Licia. «Va secondo i momenti. Secondo me, come vengono i ricordi. Sai, non credo che siano cose tanti importanti, ma sono cose che sento. E quello che mi è successo si può ripetere, no? È toccato a me, va bene, ma può toccare anche ad altri. La situazione in cui mi sono trovata. Questo dover subire continuamente la curiosità. E ora? Così rispondi alla curiosità? No, assolutamente no. Non è rispondere alla curiosità. Ho bisogno io di dirlo. E sono io che ho deciso di dirlo. E lo dico con le mie modalità». «Il tono è diventato freddo. Rimaniamo a lungo in silenzio. Si sente la televisione che sua mamma guarda in cucina. La casa è minuscola. Le ragazze hanno la loro stanza. E poi c'è questo salotto. I due divani sono i due letti di Licia e di sua madre, divisi dalle mensole della libreria. Il tavolino di vetro fa da comodino. L'unico tavolo è una piccola scrivania da ufficio occupata dalla macchina da scrivere. Gli oggetti da toletta sono nell'armadio a muro». «E poi, riprende improvvisamente Licia con tono più pacato, penso che sono sentimenti comuni a tante altre donne. Può darsi che ci sia una rispondenza. Le donne sono quelle che subiscono sempre quel che capita a figli, mariti, amanti, oltre che a loro stesse. Si possono mettere nei miei panni, capire». «Perché vuoi farne proprio un libro? Le notizie corrono troppo. Mi sembra che con un libro rimanga di più, per fare qualcosa che rimanga». «Quando ci hai pensato?» «Concretamente un paio di anni fa, ma poi è un bisogno ricorrente. Era successo qualcosa?» «Niente». «Allora forse non era successo niente. Mi era venuto in mente così, e l'ho sentito molto di più quando abbiamo trasportato Pino a Carrara, partire da lì per andare indietro. Scadevano i dieci anni dalla sepoltura di Pino a Musocco, Milano. Il comune di Milano non aveva detto nulla, e quindi avrei dovuto farlo mettere nell'ossario, in questo cimitero così anonimo, e giustizia non era stata fatta. La lapide con la poesia di Spoon River rimaneva e rimane attuale, ma sarebbe stata distrutta. E poi Pino amava Carrara. Così ho pensato di fare domanda al sindaco di Carrara. «Ho fatto tutto da sola. Neppure gli anarchici lo sapevano. Li ho avvisati io, e sono caduti dalle nuvole. Anzi, erano preoccupati. Non vorremmo che avessi subito delle pressioni, dicevano. Al che li ho mangiati, vivi per telefono. Anche adesso me lo rinfacciano». «Pressioni? E da chi? Non lo so io che cosa avessero per la testa. Pressioni, come se dovessi portarlo via da Milano per qualche motivo. È nato a Milano, nato e morto a Milano, ma io volevo rispondere a un desiderio, e poi ero seccata, molto seccata, che non si pensasse più, come una cosa finita, lontana, spiacevole. Se fosse finito nell'ossario sarebbe stato un periodo che si chiudeva. Così, invece, mi sembrava che sarebbe rimasto per sempre».